Alle volte si discute e si dicono cose che non si vorrebbero dire. Ma come può un'anima essere arida d'amore? Come può fermarsi un cuore e non essere capace d'amare? Come può essere una virgola nella vita, un ostacolo all'immenso amore? Quando la nostra storia è darsi noi stessi nella bonaccia e nella tempesta e alla fine scoprire che fra tante virgole alla fine ci sarà solo un punto e sarà la fine della storia della nostra vita che è iniziata con un noi. Grazie a tutti.